Ho iniziato anche a fare musica nei mercati e nonostante questo avesse dei grossi limiti perché nel 2005-2006, come penso tutti sappiate perché siamo più o meno tutti grandi qua dentro questo genere musicale che è diventato grande negli ultimi anni e quindi mi ricorderò ogni tre a fare il rap a dei mercati, però è una città che mi ha dato tanto, da cui ho assorbito tante cose, tante vicende, come spesso dico io ho un ricordo per ogni angolo, per ogni via di questo paese, è la mia città, la mia gente e nonostante magari sia stato anche fuori, ci sono stati degli anni in cui ho abitato per esempio a Milano ed era anche figo perché questo mi aiutava tanto con il mio lavoro, il movimento era tutto lì, poi io ero ancora in quella fase creativa in cui hai bisogno proprio di uscire, di andare nei luoghi fisicamente, facevo ancora freestyle, però poi di fatto quando tornavo qui a trovare la mamma banalmente passavo, non so, la mattina magari facevo una passeggiata per il centro, incontravo tutti gli amici di una volta, tutti gli amici di mio padre, c'era quella sensazione di familiarità che poi mi ha portato a tornare qui, perché è casa mia, mi sento a casa, molto più qui che altro. Per quanto riguarda il discorso delle polemiche dei testi, ti dico guarda, ai tempi me la prendevo molto di più, nel senso che la prendevo molto sul personale e senza magari considerare l'idea di essere comunque un capo espiatorio, ad oggi ho un pensiero in realtà un po' più generale, un po' una panoramica sulla situazione e penso che sia un problema di, non di politica, però diciamo non mi piace affatto che la politica in qualche modo non si prenda la responsabilità di vedere da dove arriva questo disagio, da dove nasce, piuttosto che buttarlo, piuttosto che darlo colpo ai giovani. Ecco, nel senso che se un ragazzo comunque si trova a sbagliare in qualche modo, a comprire delle azioni che poi lo portano a pagare sulla propria pelle, perché poi di fatto di questo si parla, nasce da un disagio e il disagio che prova un ragazzo che poi magari è limpo e non nasce dalle canzoni di Emi Schilla, non nasce dalle canzoni di BB Gang, nasce da un disagio reale, che può essere in quartiere, può essere in casa e allora in questo caso forse i giovani vanno aiutati, vanno seguiti, bisogna parlare con loro, bisogna ascoltarli e soprattutto dare delle opportunità che siano positive, piuttosto che metterli alla gogna in qualche modo, comunque non accettarli come tu stesso hai detto, perché poi di fatto la gente, una peppa, quantomeno degli italiani non accetta che a peppa stia prendendo piede, però è una roba, non si può fare, non si può frenare questa cosa, perché fa parte del progresso, i giovani comunque di fatto sono il futuro e quindi è bene tutelarlo questo futuro, se loro sono il futuro è bene dargli gli strumenti giusti in mano, perché è in un futuro migliore. Io mi soffermo sul problema concreto, ok, per risponderti, è ovvio che ci sono dei rapper che raccontano di un disagio che non vivono, però un giovane che fa questo in realtà poi non si trova realmente in guai, non so come spiegare, è una persona che poi di fatto non compie delle azioni sbagliate, può magari dare dei messaggi sbagliati attraverso la musica, però non si va oltre e lì poi si apre un'altra parentesi sui messaggi della musica, eccetera, io parlo proprio di giovani che poi effettivamente al di grado di quello che possono dire poi sbagliano nella vita vera, è lì che sta il problema secondo me, e no, assolutamente penso che il modo diciamo di risolvere questo problema non stia nel censurare, nel mettere nei freni, mio papà diceva sempre più presso una molla più salta, no? E io penso che, non so, a me è capitato di andare a parlare per esempio con i giovani anche che ne so, nelle comunità o nei carceri minorili e quello che forse spesso non mi è capito è che questi ragazzi non sono stupidi, cioè quando io parlo a una quantia di giovani messi dove siete voi, però magari ovviamente diversi, più giovani con i loro problemi, cioè loro sono realmente interessati a quello che vi viene detto e a fine di questi istituti poi magari ti ringraziano, si congratulano, dicono cavolo ma sai che mi hai fatto riflettere su questa roba, perché spesso essere ascoltato è un grosso aiuto, cioè spesso le persone hanno soltanto bisogno di sentire veramente che qualcuno si prenda a cuore quello che hanno fatto. Quando ci si sente ignorati l'effetto collaterale può essere una reazione eccessiva e spesso tentata dalla frustrazione, dalla rabbia che poi sfocia in azioni sbagliate. Questa è la mia analisi quanto mi prendo.